La seconda puntata di Temptation Island, sarà decisiva per tutte le coppie. In particolare, Alessia e Davide saranno al centro dell'attenzione. Filippo Bisciglia ha annunciato che ci sarà un momento cruciale per loro. Nella clip relativa al secondo appuntamento, si vede Davide dire una frase che lascia pochi dubbi. Se lei non riesce a trattenersi davanti a tutta Italia, figurati senza, cosa può fare? Probabilmente, Davide avrà visto qualcosa che non gli è piaciuto. Potrebbe essere che Alessia si sia avvicinata troppo a qualche tentatore? In ogni caso, già nella prima puntata, Davide aveva definito la fidanzata come una «gatta morta». Quindi c'è da aspettarsi di tutto. Potrebbe essere proprio lui il fidanzato che chiederà un falò immediato alla sua compagna. Nella prossima puntata ci saranno altri colpi di scena, i momenti di riflessione. Al centro delle vicende è anche la coppia Gabriela e Giuseppe. La ragazza sarà sul punto di chiudere con il fidanzato. Già nel primo appuntamento, Gabriela ha detto di voler mettere in atto una sorta di vendetta contro Giuseppe. Quindi è presumibile che i due continueranno la loro esperienza nel reality. Bisognerà vedere cosa avrà in mente la diciannovenne campana. Ha fatto parecchio discutere anche la coppia triestina formata da Ale e Federico. Lui si è lasciato andare ad affermazioni poco carine nei confronti della fidanzata. Ecco perché i telespettatori si sono immediatamente schierati dalla parte della ragazza. Temptation Island è appena iniziato, ma ha già generato una miriade di commenti sui social. Tutti ora sono in attesa di scoprire chi sarà, il fidanzato che ha richiesto il secondo falò immediato. Secondo voi sarà Davide? Come vi sembra questa nuova edizione? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.